we che cactus fai da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci xyuderone daie bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono xyuder e ragazzi tatarata ci siamo il teaser di ieri lo avete visto ve lo ricordate benissimo n con tanto di skin molto molto particolare oggi ragazzi eccolo qua teaser numero 2 direttamente in anteprima da fortnite japan come vedete ragazzi una seconda skin anche qua un mix tra aviatore e umano in realtà non so neanche se sia umano ma notiamo subito la lettera e quindi la parola per adesso è n e ne ne per oggi ragazzi è tutto tirate le vostre conclusioni e se avete delle idee scrivetele qua sotto nei commenti noi ci vediamo alle 17 in live ciao